buongiorno benvenuti tutti quanti su questo canale youtube dell'accademia di parapsicologia intuizia e vi presento il progetto che si chiama scuola dei sensitivi intuizia questo progetto ormai è partito già da 2015 sempre sul canale youtube il problema è che non ho pubblicizzato molto bene però adesso che abbiamo tante diverse scuole tanti diversi corsi sia online che anche in presenza ho deciso di dare la seconda vita a questa scuola dei sensitivi intuizia cosa troverete qui sono delle video lezioni alcuni saranno più corti alcuni saranno più lunghe che va benissimo così dipende sempre dal tema che tratteremo mi presento chi non mi conosce ancora mi chiamo slavie gheri che sono presidente dell'accademia di parapsicologia applicata delle cerche psichiche intuizia e voi siete adesso sul mio canale ecco e così cominciamo adesso con la nuova serie dei video ho ricevuto tantissime richieste per favore fai tante corsi online abbiamo scuola Enigma per esempio che dà la base di tante diverse discipline parapsicologiche però questa scuola non può essere data online proprio per il motivo che fare in presenza determinate lavori vi dà molta più pratica io non riesco a controllare le persone che fanno esercizi a casa anche quando lavoriamo su zoom purtroppo non posso vedere sempre in ogni stanza di zoom in che modo state facendo gli esercizi e così il lavoro diventa anche più lungo e più complicato per quello ho deciso di dare come detto seconda vita alla scuola dei sensitivi intuiti dove parleremo di tante cose da chiaro vigenza alla medianità dalla visione a distanza alla sensitività parleremo del paranormale parleremo di come gestire le vostre sedute private parleremo come potete sviluppare e allenare le vostre capacità se vi iscrivete al canale youtube riceverete anche le notifiche quando uscirà il prossimo video stavo pensando di caricare i video di martedì per me è molto più comodo perché giovedì è riservato alle dirette della nostra accademia dove vedrete altri insegnanti dell'accademia e così riceverete altri insegnamenti in diretta dove potete fare tante diverse domande invece queste video lezioni e per il vostro nel vostro apprendimento a casa sono sempre graditi i vostri commenti sapete che io rispondo sempre a tutti e così giovedì riservato alle dirette dell'accademia martedì sarà riservato proprio alla scuola dei sensitivi e sabato sì piuttosto sabato perché domenica sarà riservato a qualcosa di molto divertente sono sempre dei allenamenti sono sempre degli esercizi però legati a chiaro il fatto e chi conosce bene la mia passione per i profumi perché tutti nella vita oltre il lavoro abbiamo anche qualcosa che ci può ispirare una volta nei tempi lontani e lavoravo in una profumeria dove è nata questa mia passione per i profumi e per chiaro il fatto e io continuo su questa linea perché non riesco a smettere di portare la mia attenzione verso questa nicchia così particolare perciò tutti i profumi saranno quelli dove cerco qualcosa di magico qualcosa di parapsicologico a livello di associazioni e allora così seguendo il il mio canale voi riceverete le notifiche quando uscirà uno o l'altro video abbiamo fatto tutto il possibile per i vostri allenamenti per la vostra consapevolezza per il vostro apprendimento benvenuti nel mondo di parapsicologia benvenuti sul mio canale youtube certo che continueremo anche con facebook perciò iscrivetevi anche su facebook perché lì sulla mia pagina dell'accademia voi troverete altre cose altre informazioni altri insegnamenti non soltanto le dirette ma lì ci saranno anche promozioni ci sarà un ci sarà una lista dei venti che non gestiamo perciò ogni volta quando l'accademia intuizia farà qualche convegno o il corso online o quando vi diciamo che è ora di iscrivervi alla scuola a questo punto troverete tutte le informazioni o sul nostro sito www.intuizia.com o sulla pagina di facebook dell'accademia oppure anche su youtube cerchiamo di ampliare sempre di più le conoscenze dandovi tutte le informazioni che vi possono arrivare da tutte le parti possibili però questo video è soprattutto dedicato all'annuncio che riparte con nuovo formato la scuola dei sensitivi intuizia online ma solo su youtube perciò iscrivetevi per non perdere occasione di vedere qualche novità a presto